Aumentano ancora i contagiati in provincia, a Caltabellotta i positivi salgono a 56, a Favara, situazione fuori controllo con oltre 200 casi. A Sciacca due guarigioni, il manager dell'Aspe Zappia, fa notare che nuovi positivi e ricoverati sono non vaccinati. La procura di Agrigento ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini coinvolti nell'inchiesta che ipotizza che a gestire Girgentiacque era un'associazione a delinquere. Sarà il GIP a decidere se rinviare o meno a giudizio gli indagati. Acqua pubblica dal 3 agosto, gestione nelle mani dell'azienda consortile, unica soluzione possibile secondo Frango Zammuto di Intercopa, che definisce anomala la possibilità degli otto comuni che pur facendo parte del Lati gestiscono in proprio. Con la benedizione di Padre Tutino sono state riaperte ieri sera le grotte vaporose di San Calogero, l'iniziativa della rete del Museo Diffuso dei Cinque Sensi, visite guidate e gratuite dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 18 alle 20. Spettacolo sold out e applausi per lo spettacolo suggestivo di Salvatore Monte dal titolo La Ghiastro di Inveges, tanti saccensi che grazie allo show hanno potuto visitare il leggendario leastro di Contrada Piana, scunchi pani. Si presenta a lunedì il cartellone delle state saccense, anche quest'anno condizionato dal Covid. Intanto stasera a Sciacca all'interno dello Stadio Gurrera, l'attesa manifestazione internazionale dedicata agli sport da combattimento. Un cordiale benvenuto, ben trovati anche oggi su RMK per un nuovo appuntamento con le nostre notizie. Altri 105 nuovi contagi e la provincia di Agrigento si conferma tra quelle dove l'incremento registra numeri preoccupanti. Non a caso i due comuni già a zone rosse, Caltabellotta e Favara, si aggiungeranno da domani anche Cammarata e San Giovanni Gemini. A Sciacca numeri assolutamente sotto controllo, anzi con due guarigioni, scendono a 22 gli attuali contagiati. A Favara arrivano a 201, a Caltabellotta a 56. I dettagli in questo servizio. Altre due zone rosse nella provincia di Agrigento. Da domani le restrizioni già in vigore a Caltabellotta e Favara saranno estese anche a Cammarata e San Giovanni Gemini fino a giovedì 29 luglio. Diventano quattro dunque comuni in zona rossa nell'Agrigentino, territorio in cui i numeri del contagio sono in costante e preoccupante crescita ormai da giorni. Il bollettino dell'azienda sanitaria provinciale di Ramato questa mattina certifica altri 105 nuovi soggetti positivi al Covid, 15 guarigioni e un nuovo accesso in ospedale. Gli attuali contagiati sono adesso 786, il giorno precedente erano 696. Solo 20 di questi però sono ricoverati in ospedale. Andando ai numeri del contagio nei comuni è impressionante il dato di Favara che con 60 nuovi casi nelle ultime ore e una sola guarigione arriva a 201 positivi. Anche Caltabellotta registra nuovi casi, 3 per l'esattezza e ora arriva a 56 contagiati. Migliora invece la situazione a Sciacca, comune dove si sono registrate due guarigioni e il dato degli attuali positivi passa da 24 a 22. Anche Ribera registra una guarigione e sono solo 3 adesso i casi di positività. Salgono a 5 invece a Sambuca di Sicilia dove si è registrato un nuovo contagio, nuovo caso anche a Lucca Sicula e a Burgio. Anche Bivona intanto nelle ultime 24 ore perde il primato di comune Covid-free e registra un caso di positività. Stabile la situazione a Menfi con 3 contagiati e a Santo Stefano Quisquina dove sono 9. Gli altri comuni che hanno registrato un incremento rispetto al giorno precedente sono Agrigento con 56 attuali positivi, Aragona dove sono 8, Camastra con 3 contagiati, Camarata che arriva a 31, Licata che conta 21 positivi, Naro che arriva a 27, Porta Empedocle che con 9 nuovi casi arriva a 76, Real Monte con 8 positivi e Siculiana con 31. Sono 11, ad oggi i comuni che rimangono Covid-free, tra questi Villa Franca Sicula, Santa Margherita Belice, Monte Vago, Cattolica Reaclea e Calamonaci. La provincia di Agrigento però è quella che in Sicilia conta ben 4 comuni già zone rosse e qualche altro rischio analogo provvedimento. I vaccinati non si ammalano di Covid, non si ricoverano e non muoiono. Questo è il contenuto del messaggio principale del manager dell'ASP Mario Zappia nel suo punto settimanale. Solo la vaccinazione può permetterci di uscire da questa pandemia. C'è il servizio. In provincia di Agrigento siamo in piena quarta ondata dei contagi da Covid-19, ma stavolta rispetto alle volte precedenti, nuovi positivi sono non vaccinati. Lo ha detto nel consueto punto settimanale il commissario dell'ASP Mario Zappia. Noi oggi siamo in una ondata di riacutizzazione dei positivi, anche Agrigento lo è, ma interessa le persone che non si sono vaccinate per la maggior parte, quasi il 100%. Si registra in provincia di Agrigento un incremento dei ricoveri, tutti concentrati al Covid hospital di Ribera, indigenza ordinaria, in terapia intensiva, riempita la prima ala della medicina e rianimazione. Sono occupati 7 posti letto su 10. Ricoverati che sono tutte persone che non si sono sottoposte a vaccinazione, ad eccezione di un solo caso. Una constatazione che secondo Zappia mette in evidenza come vaccinati non hanno bisogno di essere ricoverati. Quindi non interessa le persone vaccinate, nessuna di loro è ricoverata. Deceduti, solo uno era non vaccinato, ma i deceduti, sto parlando a livello nazionale, sono tutte persone non vaccinate. Quindi ci dovrebbe convincere tutto questo che il nostro impegno massimo, il modo per uscirci da questa pandemia, non ha altro sbocco se non in quello di vaccinarci. Zappia ha poi rivelato che il 66% della popolazione grigentina si è vaccinata e il territorio provinciale al secondo posto in Sicilia. Il problema della vaccinazione, quindi la copertura della vaccinazione, adesso inizia a essere evidente, perché abbiamo una tabella che permette a paragone 8 paesi che hanno vaccinato molto contro 26 paesi che non hanno vaccinato. In questi 8 paesi la curva delle ospedalizzazioni e delle morti nei paesi vaccinati decresce costantemente e si limita a poche unità, mentre invece nei 26 paesi che non hanno vaccinato questa curva vede una risalita abbastanza decisa sia per i ricoveri che per i deceduti. I Green Pass obbligatori rappresenteranno la svolta per sconfiggere il Covid. Dopo la notizia del Via Libera del Governo a questo provvedimento sono aumentate le prenotazioni. Io penso che questa sarà la svolta perché in gran parte della nostra regione, ma anche in Italia, a seguito della decisione del nostro Consiglio dei Ministri di obbligare le persone ad avere il Green Pass per poter accedere all'interno di strutture a chiuso, abbiamo avuto un'impennata di prime vaccinazioni che, come sapete, era stato il nostro bonus per parecchie nostre attività. Le zone rosse scaturiscono dall'ostinazione di alcuni a non vaccinarsi. Le conseguenze sono a carico di tutti quelli che invece hanno fatto il loro dovere. Sfruttiamo gli Open Day, ha detto Zappia. Attenzione specifica sui comuni zone rosse dove da lunedì scatteranno campagne vaccinali straordinarie. È stato notificato ieri a 58 persone l'avviso di conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta denominata Waterloo e che ha riguardato, tra gli altri vertici societari, della Girgentiacque e della Idortecne. Sentiamo. È stato notificato ieri l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 58 persone che a vario titolo sono state coinvolte nell'operazione di polizia giudiziaria denominata Waterloo, quella che il mese scorso era culminata con l'emissione di otto fermi come indiziati di delitto nei confronti dei vertici societari della Girgentiacque S.P.A. e della Idortecne S.R.L. Inchiesta che, stando alle conclusioni degli inquirenti, ha fatto emergere una serie di illeciti nella conduzione aziendale, in particolare tra le ipotesi di reato formulate dal Procuratore Capo Luigi Patronaggio, dall'Aggiunto Salvatore Vella e dai sostituti Paola Vetro, Antonella Pandolfi e Sara Varazzi, c'è anche quella che a gestire il sistema idrico sarebbe stata un'associazione a delinquere tesa a commettere delitti diversi, frode in pubbliche forniture, violazione di sigilli, furto, ricettazione, contraffazione di marchi registrati, ma anche reati tributari, societari, tra cui le false comunicazioni sociali e reati anche in materia ambientale, come la contestazione riguardante il calcolo di costi per smaltimento fognario nelle bollette. Al presidente della Girgentiacque Marco Campione è stato contestato, tra l'altro, il suo presunto conflitto di interessi, considerato che ricopriva il ruolo di legale rappresentante della società che gestiva il servizio idrico integrato e contemporaneamente anche quello di gestore di fatto delle società del gruppo Campione. Sotto inchiesta sono finite anche le assunzioni presso la società Girgentiacque, alcune delle quali, secondo la magistratura grigentina, sono state fatte in modo clientelare il tutto in un clima di presunte protezioni a più alti livelli, perfino tra i dirigenti delle forze dell'ordine in alcuni comuni grigentini. Sotto accusa, come si ricorderà, è finito anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, che, forte del suo ruolo, avrebbe tutelato le società idriche, valutando in maniera non corretta gli elementi investigativi che indicavano una presunta infiltrazione mafiosa all'interno della Girgentiacque e non tenendo conto del parere espresso in tal senso, unitariamente, dalle forze dell'ordine. L'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi è accusato invece di corruzione per avere consentito da commissario straordinario e liquidatore del lato idrico l'aumento delle tariffe, in cambio, questo è quanto sostengono gli inquirenti, dell'assunzione del figlio. Ci sono poi nella lista degli indagati il presidente dell'ARS Gianfranco Micichè, il suo fiduciario al tempo della campagna elettorale per le regionali per i contributi elettorali ricevuti da Campione, l'onorevole Scoma, attorno alle società idriche. Dunque, secondo la procura di Grigento, avrebbe orbitato un sistema di favoritismi e protezioni. A giugno l'indagine aveva visto il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Campione, ma anche di Pietro Arnone, presidente di Idor Tecne, degli altri dirigenti, Gian Domenico Ponzo, Calogero Patti, Angelo Piero Cutaia, Ginio della Volpe, Francesco Barrovecchio, Calogero Sala. Gli ultimi tre erano stati rimessi in libertà subito dei GIP, Barrovecchio e della Volpe non si trovavano in Sicilia. A decidere su di loro erano stati magistrati di Verbania e di Taranto, agli altri, escluso Campione, erano stati concessi gli arresti domiciliari. Successivamente il riesame avrebbe poi disposto il ritorno in libertà per tutti, compreso lo stesso Campione. Gli atti adesso passano al GIP per stabilire se e eventualmente chi dovrà essere rinviato a giudizio. 12 imbarcazioni per un totale di 178 migranti a partire dalla mezzanotte sono stati intercettati e bloccati nelle acque antistanti a Lampedusa. Uno degli approdi si è registrato a Pozzolana di Ponente, a Linosa, dove i carabinieri sono riusciti, non appena scattato l'allarme, a rintracciare 12 tunisini. Un barchino con 14 subsahariani è stato bloccato da una motovedetta della Guardia di Finanza, circa un milio e mezzo dall'isola. La stessa unità ha intercettato poco dopo altre imbarcazioni con a bordo rispettivamente 17, 15, 16, 15, 14 e 14 migranti. Poco prima dell'alba le fiamme gialle hanno fatto sbarcare al molo Favaloro 61 migranti, tra cui due donne. Viaggiavano su quattro imbarcazioni, tra loro anche una donna e sei minori. Il Tar Palermo ha sospeso una interdittiva antimafia a carico di una società saccente operante nel settore della commercializzazione di prodotti ittici. La misura di prevenzione era stata disposta diversi anni fa a carico di uno dei soci. Per effetto di quel provvedimento le autorità competenti, assessorato alla salute ed aspe di Agrigento, avevano disposto la sospensione dell'attività di impresa. La società in questione ha allora proposto ricorso davanti alla giustizia amministrativa con il patrocinio degli avvocati Calogero Marino e Ignazio Bivona contro la prefettura di Agrigento per l'annullamento previa sospensione sia dell'interdittiva antimafia sia dei conseguenti provvedimenti di chiusura dell'attività. Il collegio difensivo ha in particolare censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttori e carenza di motivazione e tutto questo in ragione della mancanza di attualità degli episodi richiamati dalla prefettura a sostegno della gravosa misura interdittiva nonché la contraddittorietà rispetto alle precedenti informative liberatorie rilasciate anche di recente dalla stessa prefettura in favore della società ricorrente. Prefettura che si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Ma il TAR ha dato ragione alla società accogliendo l'istanza cautelare e sospendendo i provvedimenti interdittivi. Alla luce della decisione dei giudici la ditta Sassenze potrà riprendere regolarmente la propria attività. Gestione del servizio idrico affidata dall'azienda idrica Comune Grigentini a partire dal 3 agosto prossimo. Una vera e propria corsa contro il tempo per non generare gli servizi o rischiare il blocco dell'erogazione idrica. È la migliore soluzione tra quelle possibili, commenta oggi il coordinatore di Intercopa, Franco Zammuto, per il quale invece va sciolto in tempi brevi il nodo degli otto comuni che, pur facendo parte del LATI, gestiscono in proprio il servizio idrico. Una anomalia che per Franco Zammuto non è più accettabile. Intercopa esprime ottimismo sulla gestione del servizio idrico che dal 3 agosto prossimo passerà nelle mani dell'azienda idrica Comune Grigentini. È la migliore soluzione che si potesse trovare, dichiara oggi Franco Zammuto. Un'ottima soluzione. Penso che nel caos chi si era creato. Competenze del giudice fallimentare, competenze dei commissari della Girgenti Acque e LATI che non aveva ancora costituito, di fatto non è ancora costituita al meglio l'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Quindi è chiaro che tutto questo andava risolto nei migliori dei modi. Credo che non ci sia soluzione migliore, anche perché, come tanti hanno detto, il Comune deve sequestrare le acque, le reti. Quello era l'ultimo razio che si poteva attuare. L'AICA parte grazie ai 10 milioni di euro previsti dalla Regione. È solo un prestito è stato ribadito da più parti, ma per Intercopa era scontato che i comuni dovessero in ogni caso mettere l'azienda nelle condizioni di iniziare ad operare. È un'anticipazione di cassa che sta facendo la Regione. Qualcuno dice prestito, poi uno lo definisce come vuole. È chiaro che l'AICA si sarebbe dovuta dotare di un fondo particolare per poterla gestire. 43 comuni non possono essere gestiti con 20 mila euro di società e questo avrebbero dovuto comunque farlo. Per cui è semplicemente un'anticipazione di cassa che poi, quando sarà, questa sarà pagata regolarmente con le nostre tasse, con le tariffe dell'acqua. Per cui, prima o poi, quando sarà costituita, quando poi si doterà appunto del proprio fondo di gestione, eccetera, eccetera, a quel punto potrà rimettersi in piedi e anche restituire quelle somme che non saranno a carico dei comuni. Lo saranno a carico dei comuni qualora non sarà l'AICA capace di fare pagare le tasse ai cittadini che devono pagare sulla base dei consumi. Non sono i problemi economici quelli legati al personale o il salto nel buio scontato ad ogni nuova gestione. Il nodo che per Intercopa non è stato ancora sciolto ma che è fondamentale risolvere è quello legato alla posizione degli otto comuni che, pur facendo parte del LATI, continuano nella gestione diretta del servizio. I 35 comuni che hanno aderito all'AICA sono dentro l'AICA e hanno un piano d'ambito. Gli otto comuni, invece, non sono nulla, sono nel limbo, perché nessuno di questi ha ottenuto o ha mai avuto dal 2007 ad oggi la certificazione che hanno i requisiti della 147 bis. Nessuno gliel'ha mai rilasciato. Per cui questo nodo va a scelto. Ci lo deve risolvere questo nodo? La politica non lo ha voluto fare, LATI non lo ha voluto fare. Brava, domanda pertinentissima. Al 31 di luglio dovrebbe farlo, perché è stato investito anche nel ruolo, il commissario, la di Francesco. Se non lo dovesse fare, la patata bollente passa di nuovo a LATI, perché LATI di nuovo rientrerà nel suo ruolo, quindi non ci sarà più il commissario, avrà il compito di rilasciare le certificazioni, non sulla base di carte, ma sulla base dell'accertamento concreto che quei requisiti ci sono. Io personalmente ritengo che non ce l'hanno, perché quei famosi comuni che si dice hanno le acque pregiate, non hanno i depuratori. E allora se si deve verificare che non inquinano, e che quindi la regione deve andare a verificare se questi che hanno avuto la certificazione non inquinano, non lo può concedere se non hanno i depuratori. Altra cosa sono quei comuni che legittimano la loro richiesta sul fatto che hanno le acque che hanno affittato 75.000 anni fa e che prendono da quelle fonti. Ma non è l'acqua pregiata, non viene da parchi, per cui nessuno, a mio avviso, ha questi requisiti. Quando e se l'ATI rilascerà la certificazione con la commissaria, noi siamo sempre lì vigili a verificare che questi requisiti siano tali e che non ci sia nulla da ridire. E l'intervista integrale al coordinatore di Intercopa andrà in onda in coda al notiziario nello speciale RMK Notizie dedicato alla gestione del servizio idrico. Si è svolta ieri sera l'inaugurazione del progetto del Museo dei Cinque Sensi che garantirà la possibilità di visitare le grotte vaporose di San Calogero. Sentiamo. È stato quello dello scioglimento del nastro fatto da Viviana Rizzuto del parroco di San Calogero fra Giuseppe Tutino il momento simbolico e emozionante ieri sera della riapertura alle visite guidate delle grotte vaporose del Monte Cronio, patrimonio naturale di straordinaria rilevanza che rende le terme di Sciacca uniche in Europa. L'iniziativa del Museo Diffuso dei Cinque Sensi, assunta in collaborazione con professionisti, associazioni e volontari, è stata resa possibile, grazie alla decisione del Presidente della Regione Nello Musumeci, di accordare un'iniziativa come quella della riapertura delle stufe ai fini della divulgazione della conoscenza. Visite che saranno gratuite, con ingressi consentiti dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e la domenica dalle 18 alle 20, lunedì chiusura. Il progetto, in attesa di una decisione permanente riguardante l'intero sistema termale Saccenze, sottolinea la possibilità di permettere almeno un accesso libero alle grotte di San Calogero. Punto centrale della proposta, il coinvolgimento delle tante associazioni e realtà che fanno parte della rete che costituisce il Museo Diffuso dei Cinque Sensi. Nelle settimane scorse è arrivato il placet del Presidente della Regione, per quella che lo stesso Nello Musumeci ritiene un'iniziativa pregevole, così ascritto, certamente funzionale alla valorizzazione delle stufe vaporose. La riapertura delle grotte, anche se per il momento ha soli fini storico, naturalistico e culturali, consente di riattivare la memoria di una città e la consapevolezza di un'intera comunità, verso parte del suo patrimonio, dall'inestimabile valore, permette di farle conoscere e renderle fruibili al turismo internazionale, ha commentato la Presidente del Museo Diffuso dei Cinque Sensi, Viviana Rizzuto. La squadra, gli volontari, chi ha lavorato, chi si è interessato, giustamente ha bisogno di benedizione perché deve continuare, no? No, 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 ma che significa già chiudere. È parecchio tempo che anche la gente venendo in Basile, se ti chiede la chiave della grotta, ma le grotte vaporose non si possono vedere. Momentaneamente no, verrà il tempo che si vedranno e si utilizzeranno nuovamente. Peccato. E' che peccato mio. È un po' l'advento della storia. Quindi noi ringraziando questa iniziativa vostra della squadra, della sensibilità alla città, al luogo, ai turisti, tutto quello quanto anche quello che è una benedizione particolare alle vostre famiglie. Sono almeno 1.500 a Sciacca le persone che non hanno più il medico di base. A segnalare questo grave problema è stato l'ex sindaco Lillo Craparo che si è rivolto al coordinamento che si occupa della selezione dei medici di base affinché venga trovata una soluzione. L'emergenza scaturisce dal decesso del dottor Nino Randazzo e dalla decisione del suo sostituto di dimettersi. Occorre una soluzione tampone che permetta a queste persone di avere nuovamente un medico. La Flai CGL di Agrigento presente con una folta schiera di lavoratori forestali alla manifestazione di ieri mattina dinanzi Lars per protestare contro la riforma del governo regionale che non prevede nessun investimento nel settore a tutela dell'ambiente, del patrimonio boschivo e dei laboratori. Ascoltiamo l'intervista al segretario provinciale della Flai CGL di Agrigento, Giuseppe Di Franco. Stolattina Flai e Guila sono di fronte all'assemblea siciliana per protestare contro il disegno di legge del governo musumeci sul settore forestale. Chiediamo la modifica o l'abrogazione di questo disegno di legge che non prevede nessun investimento nel settore forestale, non prevede nessuna tutela del patrimonio boschivo siciliano. Quest'anno già stiamo pagando le conseguenze dell'avvio e ritardo dei lavori di prevenzione. Crediamo invece che bisogna investire in questo settore, bisogna creare le condizioni affinché ci sia una maggiore tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo, la lotta al distestro idrogeologico, una forestale produttiva. E da qui, da questo lavoro, bisogna anche migliorare le condizioni di vita dei lavoratori che li lavorano e prevedere anche un ricambio generazionale che possa permettere al bosco e al suo patrimonio di essere tutelato nel migliore dei modi. Noi crediamo che stamattina i gruppi parlamentari che ci ascolteranno debbano prendere nota delle nostre richieste. Portare quindi le opportune modifiche all'interno delle commissioni in maniera tale che questo provvedimento possa andare in Parlamento ed essere votato dalla maggioranza dei diputati e creare una riforma seria, una riforma che preveda un futuro della forestale pubblica, che non veda lo smantellamento previsto da questa riforma che secondo noi va verso una privatizzazione. Noi pensiamo che la forestale debba rimanere dei siciliani, che non ci possa essere più questa devastazione a cui continuiamo ad assistere ogni anno e quindi veramente chiediamo con forza a tutta la politica siciliana di mettere in campo una proposta seria. E siamo agli spettacoli. Torna stasera e domani incontra da scunchi pani la leggenda musicale La Ghiastro dei Inveges. Il nuovo spettacolo scritto e diretto da Salvatore Monte che ieri sera ha registrato il sold out. Uno spettacolo suggestivo che ha portato tanti saccensi lì dove il più famoso Oleastro Saccense offre spunto a storie e leggenda. Vediamo. Torna stasera e domani il nuovo spettacolo di Salvatore Monte, La Ghiastro dei Inveges, che nei luoghi del secolare Oleastro incontrà da scunchi pani, sta portando centinaia di saccensi curiosi di conoscere la leggenda che si tramanda di generazione in generazione. La scelta non è nata chissà da quale riflessione filosofica. Io passavo di qua perché stavo andando da Bonsacense a uno schiticchio, mi sono fermato perché non conoscevo il posto e guardandola mi si è accesa la lampadina. La cosa risale a qualche annetto fa. Però ogni anno abbiamo sempre scelto una tematica diversa, quest'anno ne avevo pensato addirittura un'altra, però per le note vicende legate alla pandemia ho preferito fare qualcosa che pensavo essere più piccolo, ma in realtà poi così non è stato e ci siamo dedicati a valorizzare questo albero e a tutti i misteri che ovviamente lo circondano. Misteri su cui ti sei documentato, hai raccolto testimonianze, c'è una leggenda principale ma se ne intrecciano tante attorno a questa ghiaccia? Le leggende se ne intrecciano oggettivamente moltissime. Quella che noi tutti conosciamo è legata al fatto che l'albero non si può spezzare, ma alcuni sostengono, tra cui i proprietari terrieri che ringrazio per l'ospitalità, che l'albero si può toccare ma non si può spezzare perché al momento in cui si spezza si innesca il procedimento legato a una possibile maledizione. Mentre la storia racconta che negli ultimi sabati, il penultimo sabato di luglio, che tra l'altro dovrebbe essere quello di domani, le fate escono fuori dal tronco dell'albero e innescano la famosa fiera delle fate dove c'è un'esposizione di oggetti d'oro e queste fate danzano. L'altra leggenda che invece ho avuto raccontata qualche giorno fa è legata invece a una coppia di innamorati, lui arabo, lei saccenze. Questa storia d'amore non si poteva concludere, lui venne ucciso dalla famiglia di lei e lei si suicidò. Entrambi, si dice, riposino sotto l'albero e da lì nasce l'idea della maledizione. Ovviamente c'è tanto altro, abbiamo fatto anche una serie di approfondimenti con i contadini del luogo e c'è un aneddoto che noi raccontiamo legato all'accensione di alcune candele su un candelabro. Queste candele venivano accese al baglio Inveges in continuazione la notte, venivano accese e si spegnevano in automatico, senza vento, senza niente, quindi accendevano e si spegnevano. Da lì abbiamo poi, diciamo così, cucito il testo che poi è diventata la leggenda musicale che vi raccontiamo. Un cast numerosissimo per la ghiastro dei Inveges con oltre 60 componenti, con il coro, le coreografie, gli attori, lo staff dell'organizzazione e tante piccole nuove leve. Questa volta quali panni vestirai? Questa volta sì, dell'Agostino Inveges, del Don Agostino Inveges, filosofo, teologo dei primi del 1600, del resto era lui uno dei primi proprietari insomma qui di tutte quante le terre e anche del nostro, diciamo così, interprete principale insomma che la ghiastro. Donna Marta, una nobile, una donna nobile che ha passato tante di quelle vicende e poi non voglio dire niente altro, un personaggio veramente tosto nel carattere e in tutto, anche nella vicenda. Le coreografie sono state appunto fatte da me assieme ai miei ragazzi che sono sempre con me, partendo da Alessia Barsalona, Accursio Taormina, Alberto Leggio, Sofia Rizzuto, Maria Maniscalco e Anna Maria Sansone. Diciamo che abbiamo iniziato tutto verso giugno, abbiamo cercato appunto di capire cosa dicesse anche il copione per arrivare poi a creare qualcosa attraverso il ballo. Abbiamo utilizzato uno stile di danza moderna e contemporanea e ci sarà anche un momento di pantomima. È molto bello recitare, per me è anche una passione. Non è quasi la prima, è tipo la terza. E qual è il tuo personaggio? Io sono il protagonista del copione, sono Giuseppe praticamente, mi chiamo sempre col mio nome. Cosa ti sta piacendo di questa esperienza? Mi piace che mi piace l'albero, tutte le luminarie, anche la trama della storia dell'albero. In questa parte siamo tutti grandi amici, però quando parliamo molte volte ci mettiamo anche a ridere, perché fra di noi c'è, come possiamo dire, una bellissima fratellanza, ci vogliamo un mondo di bene. Quindi per noi recitare insieme è tutto. E cosa ha di bello questa esperienza? È tutto, recitare, la suggestione che un poco coglie a tutti di sorpresa, gli imprevisti anche che comunque ti fanno soffrire, perché comunque c'è stato molti sacrifici durante i mesi di prova. Ieri sera, all'appuntamento del venerdì con il salotto letterario San Marco Restart, ospite è stato Pippo Graffeo, che ha ripercorso la sua carriera di autore e anticipato alcuni dei suoi prossimi impegni. Vediamo. A più di vent'anni, da quando andavo a scuola, che io non bevo acqua, ma bevo poca cola. Pippo Graffeo, ieri sera al tradizionale appuntamento del venerdì con San Marco Restart, il salotto letterario organizzato dal comitato provinciale Asi di Agrigento, presso il resort e buono vacanze. Storico operatore culturale Sacenze, Graffeo ha ripercorso, stimolato da Giuseppe Recca, tutti i passaggi della sua carriera artistica, dal cabaret alla prosa, dalla poesia alla lunga esperienza col carnevale. Graffeo ha parlato della sua attività di autore e monologhista di cabaret, fornendo poi un'anticipazione dello spettacolo prossimo inserito nell'estate Sacenze, in programma lunedì 26 luglio al Museo del Carnevale. Ha poi recitato due poesie, una selezionata per un concorso che si sta svolgendo e l'altra vincitrice del premio Rosa Balistrere nel 2008. Nello spazio dedicato al carnavale, oltre al racconto di alcuni aneddoti, l'attore ha recitato due passaggi di copioni del passato e poi ha ricordato un poemetto dedicato a Cosimo Barna, che deve ancora essere pubblicato. Infine, un'anticipazione di un monologo teatrale dedicato alla leggenda della Rocca Regina, la storia di Giuditta Normanna. San Marco Restart è ormai un appuntamento gradevole, in uno spazio che da due mesi esalta la figura di artisti, scrittori e musicisti di Sciacca e Interland, ma anche persone impegnate in attività sociali. intenti a raccontare storie e a trasmettere emozioni in vari campi dell'arte e della letteratura. Venerdì prossimo si parlerà di ambiente e fauna nel nostro territorio. Si inaugura stasera alle 19.30 nel porticciolo turistico del Molo di Ponente, presso il circolo nautico Il Corallo di Sciacca, la mostra di pittura dell'artista Giacomo Marciante, dal titolo Emozionart. L'iniziativa è promossa dalla sezione Fidapa di Sciacca. Sullo sfondo la ricerca del bello, le donne, l'azzurro del mare, un bene per l'anima. La mostra sarà visitabile fino a tutto il 6 agosto prossimo. La rassegna culturale, le parole che non ti ho letto, voci e note per letture drammatizzate, omaggio a Leonardo Sciaccia nell'anno del centesimo anniversario dalla nascita. L'appuntamento ricorda l'assessore allo spettacolo Sino Caracap per domani 25 luglio, con inizio alle 21.15 nell'altro superiore del palazzo municipale. Lo scrittore Racal Mutese sarà omaggiato con la lettura di due racconti tratti dal libro Il mare colore del vino, reversibilità e il lungo viaggio. A dare voce ai racconti sarà Liliana Marciante. Gli accompagnamenti musicali al pianoforte saranno curati dal maestro Ignazio Catanzaro, la regia e di Franco Bruno. L'omaggio a Leonardo Sciaccia è il terzo appuntamento della rassegna Le parole che non ti ho letto, promossa dall'assessorato allo spettacolo e al turismo, con l'organizzazione di teatro Oltre, Schene Academy, Proloco Sciacca Terme e Futuris. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si presenta lunedì sera alle 21 all'esterno del circolo di cultura di Sciacca il libro dal titolo Solo 13 chilometri, un legal thriller che ricostruisce un delitto e l'inchiesta giudiziaria che ne è conseguita scritto a quattro mani dal docente e scrittore Giovanni Accardo e dall'avvocato Mauro De Pascalis. L'intervista a Giovanni Accardo e di Massimo D'Antoni. Si presenta lunedì 26 luglio alle 21 al circolo di cultura all'aperto, quindi nel veicolo attiguo all'ingresso principale, il libro Solo 13 chilometri di Giovanni Accardo e Mauro De Pascalis. Se quello che abbiamo un po' definito legal thriller, che richiama anche un tipo di modello, di narrativa di un certo tipo, vogliamo un po' ricordare come nasce questo libro. Noi ce ne siamo occupati in una presentazione che abbiamo trasmesso qui in televisione, ma la possibilità di un incontro in presenza è comunque particolarmente suggestiva, specialmente in questa fase che stiamo attraversando. Sì, effettivamente con te Massimo e col procuratore Vella abbiamo fatto la prima presentazione online, adesso siamo invece fortunatamente dal vivo. È un romanzo che nasce da un fatto di cronaca che è accaduto al confine, potremmo dire, ovvero tra Alto Adige e Austria, esattamente in Valpusteria, nel novembre del 2000. Prendendo spunto dai fatti realmente accaduti e quindi da tutta la documentazione, i verbali dell'inchiesta e i verbali soprattutto del dibattimento, quindi del processo, con l'Avvocato Mauro De Pascalis abbiamo costruito un romanzo che rientra perfettamente nel genere del legal thriller, cioè il racconto di un'inchiesta giudiziaria e di un processo penale. Un genere poco diffuso in Italia, l'esempio che mi viene in mente principalmente è Caro figlio con il ciclo dell'Avvocato Guerrieri. Quindi è venuto fuori un romanzo che permette al lettore di seguire quei fatti che spesso nella cronaca giudiziaria della stampa, della televisione, sono magari compresse dalla fretta. Qui è in grado il lettore di seguire proprio tutti i passaggi, dal fermo al cosiddetto interrogatorio di garanzia, l'udienza davanti al Tribunale della Libertà, l'udienza davanti al GIP per il rinvio a giudizio, tutte le fasi del dibattimento, un dibattimento molto complesso con numerose perizie. E proprio per questa ragione il romanzo sta piacendo moltissimo anche negli ambienti giuridici, sia accademici, sia magistrati, sia avvocati e questo ci riempie naturalmente molto di orgoglio. Un'ultima cosa, ricordando che la presentazione sarà fatta insieme a Mariolina Bono con te, che converserete per la presentazione di questo libro, fammi ricordare che questo libro è scritto a quattro mani, tu ti sei occupato della parte narrativa, ma ricordiamo che l'Avvocato Mauro De Pascalis non è uno scrittore. Quindi avete condiviso questo progetto, lui dalla sua parte e tu dalla tua. Tutto nasce da una sua proposta perché Mauro De Pascalis nella realtà è stato uno degli avvocati di questa inchiesta, di questo processo penale. Mi ha chiesto tante volte di farne un romanzo, io ero sempre titubante, poi man mano mi ha cominciato a mandare dei materiali, la storia è veramente molto interessante perché affronta tutti i temi che noi sentiamo nei telegiornali sulla giustizia e quindi per esempio la disparità di mezzi a disposizione della Procura rispetto all'Avvocato, ma anche un tema fondamentale su cui siamo stati invitati a un seminario di formazione degli Avvocati a dibattere, ovvero il ruolo talvolta negativo che ha la stampa, la televisione, cioè come dice uno dei protagonisti del romanzo, il cosiddetto circo mediatico che influisce pesantemente nel corso delle inchieste. Quindi è un romanzo che racconta un fatto avvenuto tra il 2000 e il 2004, ma che di fatto affronta temi ancora di cui si dibatte e proprio in questi giorni si parla proprio di riforma della giustizia. Ripartiamo dai consigli della libreria Mondadori. Vediamo. Formulata da Albert Einstein, con qualche contributo da parte di amici e colleghi fra il 1907 e il 1917, la relatività generale è la teoria che oggi meglio descrive lo spazio, il tempo e la gravità. Con la chiarezza espositiva che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Rovelli ne illustra i fondamenti fisici, filosofici e matematici. Per il lettore con formazione scientifica questo libro rappresenterà dunque un'agile introduzione agli aspetti fondamentali della teoria, ma nel contempo lo scienziato e lo studente avanzato vi troveranno una discussione approfondita e originale della sua struttura concettuale. Nel secolo scorso la relatività generale ha rivoluzionato la fisica, ma ecco le applicazioni e le osservazioni degli ultimi anni, coronate da numerosi premi Nobel, che sono esplose e diventate evidenti, la sua vitalità è fecondità. Rovelli descrive questi risultati recenti, guidando così il lettore ad apprezzare la scintillante bellezza e la semplicità delle idee su cui essa si basa. Relatività generale, una semplice introduzione, idee e struttura concettuale, buchi neri, onde gravitazionali, cosmologia e cenni di gravità quantistica di Carlo Rovelli, edito ad Elfi. Siamo allo Sport, allo Stadio Gurrera di Sciacca stasera, un evento dedicato agli sport da combattimento organizzato da Francesco Schembri con il patrocinio del Comune di Sciacca e l'assessore Caracappa annuncia lunedì sarà presentato il programma dell'estate saccense. Sentiamo. Lo Stadio Luigi Gurrera riapre al pubblico e ospita questa sera la manifestazione internazionale di sport da combattimento individuale, una iniziativa della FTL Management di Francesco Schembri. Finalmente è arrivata la giornata, ringrazio tutti, tutti che hanno contribuito per organizzare questo grande evento qua, ringrazio il Comune di Sciacca, ringrazio le persone che ci hanno sostenuto e speriamo che stasera si divertano tutti. L'evento sportivo è stato patrocinato dal Comune di Sciacca. Stamattina allo Stadio Gurrera c'era l'assessore allo spettacolo Sino Caracappa. Siamo molto contenti di aver contribuito in molte forme a far sì che questo luogo, lo stadio soprattutto, vivesse anche sotto altre forme. È uno spazio che ha enormi possibilità e che va sfruttato per tutti i tipi di eventi sportivi e anche oltre, per manifestazione anche di pubblico spettacolo. È un evento di natura e di caratura internazionale, stiamo vedendo quante persone sono arrivate a Sciacca, quanti B&B stanno potendo usufruire di queste presenze, quindi un ulteriore sostegno e sollievo per le attività di ricezione di Sciacca. Contiamo che sia il primo passo e speriamo che sia il primo passo verso anche una futura collaborazione con questa federazione ma anche con tante altre. Noi dal canto nostro ci impegneremo a rendere fruibile lo stadio per tutta la serie di eventi che si potranno svolgere. L'assessore Caracappa annuncia che lunedì sarà presentato il programma dell'estate Saccenze. È partita in sordina ma che ufficialmente partirà da lunedì con uno spettacolo al Museo del Carnevale di Pippo Graffeo. Lunedì renderemo noto quello che è l'intero programma ma non trascuriamo il fatto che eventi in queste sere ci sono stati presso l'adrio superiore del Comune. E ci saranno anche i Saccenzi a Cursio Sabella e Andrea Maniscalco tra i protagonisti stasera della competizione che si terrà allo Stadio Gurrera. Gli atleti della Bushido Team prenderanno parte all'evento che vede in palio 10 titoli mondiali per diverse federazioni e categorie di peso. Ascoltiamo. Saranno i Saccenzi a Cursio Sabella nella box e Andrea Maniscalco nel Love Kick i protagonisti locali dell'evento denominato Vendetta Fight Nights che si terrà stasera allo Stadio Gurrera di Sciacca. Si tratta di due atleti della Bushido Team del maestro Francesco Graffeo. In palio 10 titoli mondiali europei e nazionali di varie federazioni e categorie di peso con in pedana e sui ring atleti provenienti da diversi paesi del mondo. Andrea Maniscalco pur essendo già abituato a combattere stasera sicuramente ci sarà una grande emozione? Si l'emozione sarà molto forte anche perché è la prima volta che combatto sopra un ring davanti a tanta gente e soprattutto sarà molto emozionante combattere a Sciacca nella mia città. A Cursio Sabella stasera la tua prima gara nel Pugilato una grande emozione? È una grande emozione anche perché è la prima volta che salgo sul ring e ovviamente specialmente combattendo nella propria città è emozionante e spero di riuscire a fare bene. Ci saremo anche noi a questo grande evento, è uno dei più grossi eventi che si stanno facendo in Europa. Ho avuto la fortuna di conoscere Francesco Schembri che rappresenta la FTL, vedendo allenare i miei ragazzi mi ha convinto perché noi veniamo da un altro mondo, dal mondo del contatto leggero, mi ha convinto a preparare i due ragazzi. La preparazione è stata un po' travagliata anche perché venivamo dal periodo di fermo per colpa del Covid quindi abbiamo dovuto riprendere il tutto sia a livello atletico che a livello tecnico e poi soprattutto il lavoro più importante è stato quello a livello mentale perché fare il cambio, quindi andare a combattere su un tatami e poi salire su due rinchi ovviamente è una differenza abissale. Però i ragazzi ci stanno, abbiamo fatto più di due mesi di preparazione, atleticamente ci siamo, tecnicamente ovviamente ho avuto meno lavoro rispetto a quello atletico perché già erano abbastanza messi bene a livello tecnico e a livello mentale abbiamo fatto molto lavoro anche a livello di parlare, di fare iniezioni di fiducia perché ovviamente affrontare un ring soprattutto con due atleti molto forti che noi gli avversari scenderanno dalla Svizzera è stata abbastanza travagliata però ci siamo riusciti e ora speriamo bene. Per quanto riguarda le specialità e per quali competizioni che reggeranno? Io ho dovuto riadattare entrambi perché Accursio Sabella viene dalla kick light e quindi però combatterà nel pugilato quindi l'impostazione è un po' diversa, i movimenti sono un po' diversi visto che nella kick light si lavora pure con le gambe mentre nella box c'è solo il lavoro pugilisto quindi di braccia, l'ho dovuto riadattare. Lo stesso Andrea Maniscalco che proviene dal fight point e dal light contact, anche lì l'ho dovuto riadattare a un lavoro nuovo perché lui combatterà nel K1 quindi con calci alle gambe, proiezioni e quant'altro. Però ripeto, quando la base è buona a livello tecnico basta solo cambiare un po' di pezzi del puzzle e poi viene fuori sempre un lavoro abbastanza buono. Campionato di eccellenza è Gonzalo Labanca, 23 anni argentino, centrocampista, uno dei nuovi arrivi nell'organico dell'Unitas Sciacca affronterà la sua seconda esperienza italiana dopo quella della scorsa stagione in Calabria. La banca si adatta a tutti i ruoli del settore centrale del campo, dispone di ottima tecnica e buone visioni di gioco sa proporre il gioco e lanciare i compagni ma chiude anche i varchi quando bisogna difendere. Il giovane calciatore è cresciuto nel settore giovanile di due prestigiose società argentine e poi ha disputato il campionato primavera con l'indipendiente altra squadra della massima serie del popolare torneo sudamericano. Sciacca è una bella città, sono felice di questa nuova esperienza, dice la banca, che da alcuni giorni è in città e si sta ambientando. Non vedo l'ora di cominciare la preparazione e di mostrare sul campo tutte le mie qualità. Buona partecipazione e tanto entusiasmo ieri presso gli impianti di Isabella Sport dove i tecnici dell'Unitas Sciacca hanno coordinato il primo dei due giorni di stage gratuiti riservati a giovani calciatori. Tanti ragazzi di Sciacca e dell'Interland provenienti dalle scuole calcio del territorio che si sono presentati all'appuntamento per tentare di far parte delle squadre giovanili che poi indosseranno la maglia nero-verde nei campionati. Oggi seconda giornata di stage a partire dalle ore 17 sempre sui campi di erba sintetica dell'impianto Isabella Residence Sport. L'Unitas Sciacca con il proprio settore giovanile non farà pagare nessuna retta mensile. I ragazzi selezionati contribuiranno soltanto ai costi iniziali per il materiale tecnico che sarà messo a loro disposizione. Sarà il blasonato tennis club di Reggio Emilia l'avversario del tennis club Sciacca nell'ambito della fase nazionale del campionato over 45. Per la partita casalinga il sudelizio presieduto da Vincenzo Sclafani si augura di poter avere a disposizione i rinnovati campi della perriera posto che da 20 mesi sono ospiti delle strutture di Menfi. C'è il servizio. L'urna non è stata benevola con il tennis club Sciacca. Si è svolto infatti qualche giorno fa in diretta streaming il sorteggio del tabellone del campionato a squadra nazionale over 45 uno degli eventi clou della stagione tennistica italiana. Il tennis club Sciacca, unica società agrigentina in questa stagione a raggiungere il tabellone nazionale 2021 affronterà in casa il blasonato tennis club tricolore di Reggio Emilia. Il big match è previsto per domenica 19 settembre a partire dalle ore 10. Incerta è ancora la sede del match. Il tennis club Sciacca, preseduto da Vincenzo Sclafani, infatti è ospite da oltre 20 mesi del tennis club Menfi in quanto la struttura comunale di Sciacca, di Corso Miraglia è stata oggetto di ampia ristrutturazione. Oggi, da quanto si apprende, i lavori di rifacimento dei campi seccensi sono terminati ma la struttura non è stata ancora aperta al pubblico col risultato che il sodalizio di Sclafani e Colletti continua ad essere ospite delle strutture di Menfi. L'appello che il tennis club Sciacca rivolge al sindaco nonché assessore allo sport Francesca Valenti è quello di accelerare, ove fosse possibile, l'ite per la riapertura della struttura comunale. Questo sicuramente sarebbe un segnale positivo di rinascita ed il ritorno alla normalità per la cittadinanza dopo un periodo di costrizioni e privazioni legato all'emergenza Covid. Per i club seccense, ovviamente, poter giocare questa grande partita in casa con il supporto dei tifosi sarebbe motivo di orgoglio e di spinta in più al fine di proseguire il percorso del tabellone. Società di Vincenzo Sclafani, comunque, già ampiamente protagonista, inoltre, sia nel campionato nazionale di Serie C maschile, sia con gli ottimi risultati del settore giovanile. È tutto, siamo in chiusura, ci fermiamo qui. Vi ricordo, come sempre, l'appuntamento alle prossime edizioni per tutti gli aggiornamenti e vi auguro un buon fine settimana. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti.